La Direzione Investigativa Antimafia, su disposizione del Procuratore della Repubblica facente funzioni di Agrigento Salvatore Vella e del sostituto Gloria Andreoli, ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in danno al patrimonio di una imprenditrice favarese, Giussi Barba, 40 anni, attiva nel settore dell'assistenza agli anziani e disabili, indagata per i reati di appropriazione in debita ed autoriciclaggio. I sigili sono stati apposti a 10 immobili e 2 conti correnti bancari. L'attività di indagine economico-finanziaria degli investigatori della DIA, si legge in una nota della Procura, attraverso l'analisi di scritture contabili, libri sociali, movimentazione di rapporti finanziari nonché copioso altro materiale documentale, ha permesso sostanzialmente di ricostruire il modus operandi adottato dai soggetti coinvolti, accertando come siano riusciti nel tempo a reimpiegare il denaro provento dell'attività illecita scaturita dalla gestione di una società cooperativa Onlus. Maria Giussi Barba è l'ex moglie di Salvatore Lupo Dominus della Onlus ed ex presidente del Consiglio Comunale di Favara, ucciso il giorno di ferragosto dell'anno scorso. Per il delitto è stato arrestato ed è finito a processo il padre della donna, Giuseppe Barba, che lo avrebbe assassinato per i contrasti economici legati alla separazione con la figlia. La stessa donna è stata rinviata a giudizio insieme all'ex marito per l'accusa di estorsione nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza il pizzo col cavallo di ritorno ai dipendenti della cooperativa.